Con la prima prova, quella del tema di italiano, sono iniziati anche per gli studenti delle scuole fanesi gli esami di maturità 2012. Noi di Oltrefano.it siamo andati a raccogliere a caldo qualche impressione. Che tema hai scelto? Ho scelto la tipologia B, ho fatto il tema sulla crisi dei giovani dai 15 ai 34 anni. E penso e spero sia andata bene, anche perché me lo aspettavo e quindi ero pronta, dai diciamo che ero pronta, me lo aspettavo. Tipologia B, saggio breve sul labirinto. C'erano diverse immagini, dipinti che rappresentavano il labirinto, uno sul mito del Minotauro, poi estratti di opere come l'Orlando Furioso, l'Alef, Italo Calvino e Ugo Umberto Ico. Ho scelto il saggio breve sulla crisi economica dei giovani. Ho scelto il tema di tipologia D, quello di ordine generale, praticamente dobbiamo parlare dei giovani, dei sogni, delle speranze, di queste cose qua insomma. Beh dai, dovrebbe essere andata abbastanza bene, penso. Io ho scelto il saggio breve di stampo socio-economico che parlava della crisi che investe l'Italia e l'Europa e dei giovani, speriamo bene. Io ho scelto il tema che ha scelto la mia amica, tipologia D sui giovani e vivendo questa esperienza in prima persona ho raccontato quello che stiamo vivendo, le problematiche, i sogni di noi giovani. Spero sia andato abbastanza bene, speriamo di cavarcela, almeno abbiamo fatto. Il tema è l'infanzia ferita, che parla dello sfruttamento minorile così. Ho scelto la tipologia B in ambito socio-economico, quindi ho parlato della crisi, un po' nella dinamica della crisi e l'ho collegata alla crisi del 29 e dopo ho spiegato anche un po' le cause, magari i rimedi che si possono trovare per combattere la crisi. Ho fatto la tipologia B e il tema storico-politico, che era sul bene individuale e il bene comune. Come pensi sia andata? Bene, bene. Spero bene. Anche io spero bene. Ma tanto lei è brava. Sì. Spero bene, penso. Non lo so, l'ho riletto 20 volte, però vedremo adesso. Non dico niente per scaramanzia. La prima prova, dai, è abbastanza bene. C'è mediocre, dai. Ah, spero bene, non lo so. Speriamo in bene e poi vedremo. Spero bene. Spero bene. Cioè, le tracce non erano, diciamo, difficili. Erano molto, diciamo, agibili. Però sì, tanto l'emozione e l'esame bisogna prepararsi bene. Tanto è sempre così. L'esame è iniziato tutto secondo gli orari oppure c'è stato qualche imprevisto? Assolutamente no. Ho fatto da testimone. Abbiamo aspettato un'ora che arrivasse il codice della segreteria, che tra l'altro era sbagliato. Quindi abbiamo iniziato un'ora dopo. Infatti c'è alle 8 e mezza, alle 9 e mezza abbiamo iniziato. Infatti alle 3 e mezza finisce, in teoria. Ed è una cosa impossibile, perché si muore di caldo. No, decisamente no. Speriamo domani. No, sinceramente hanno tardato un po' a arrivare le chiavi dal Ministero per poter aprire i file. E quindi abbiamo iniziato, tra tutto, alle 9 e mezza. Grazie a tutti.